Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube di Oram. Eccoci qui ad EICMA 2023 Stand Scorpion EXO, brand di caschi conosciutissimo, apprezzatissimo dai nostri clienti e che ha una gamma caschi veramente sconfinata, che spazia dai caschi più urbani ai vendutissimi modulari, fino ad arrivare al top per la pista e per la competizione. Quello che ho davanti è la massima rappresentazione della tecnologia, sicurezza e qualità di Scorpion? Stiamo parlando dello Scorpion EXO R1 EVO, qui vediamo una colorazione limited edition del pilota Moto2 Canet, colorazione molto particolare, come è particolare il pronunciato spoiler posteriore che presenta questo casco integrale pensato per il mondo racing, che pensate gode della omologazione FIM, l'unica utilizzabile per chi gareggia nelle massime categorie. Sicurezza imprescindibile per tutta la gamma di caschi Scorpion, ma questa è veramente la massima rappresentazione di dove può arrivare la tecnologia a due ruote. Parliamo di un casco che, vedete appunto, ha una linea estremamente pronunciata, ovviamente sono stati fatti dei lavori in galleria di vento, in modellazione 3D, per essere sicuri di dare la forma più aerodinamica possibile. Per i piloti si tratta di una cosa veramente importante, che può fare anche la differenza nel tempo su giro. Troviamo una visiera piana predisposta per gli immancabili TROF, un sistema di chiusura che, non c'è neanche da dirlo, è doppia D, l'unico sistema che si può utilizzare nelle competizioni, ma particolarità di questo casco, oltre agli interni freschissimi, traspiranti, che si asciugano veramente velocemente, è il sistema di gonfiaggio degli interni. Tramite questa pompetta potremo andare a pompare un pochino gli interni in modo da trovare il fit sempre ottimale. Questo è molto importante per i piloti, il casco dei piloti, ma di tutti i motociclisti, non si deve muovere, questo può dare fastidio durante la guida. Quindi, oltre a scegliere la taglia giusta, potremo andare a fare dei microaggiustamenti nel nostro casco, anche quando magari gli interni avranno preso un po' la forma della nostra testa. Una novità veramente interessante, come sono interessanti tutti i prodotti Scorpion, che però, come sempre, vi invito a toccare con mano nel nostro showroom di Modena, in via Emilia S935. oppure visitate oramonline.it e scoprite tutta la gamma Scorpion Exo. Appuntamento al prossimo video, sempre con Oram e Always Riding. Ciao!